Oggi si sono costituite FIAC Assue Impresa Sicilia e FIAC Assue Impresa Palermo, una federazione italiana per gli amministratori di condominio, una professione molto importante che richiede un'assistenza continua, dei servizi, delle convenzioni e soprattutto anche dei corsi di aggiornamento che FIAC saprà dare alle proprie associazioni, la sua impresa così dimostra di essere sempre presente sul territorio, a fianco delle proprie imprese, a passo coi tempi e soprattutto in un'associazione moderna. Innanzitutto buongiorno a tutti, i nostri obiettivi in qualità di Presidente regionale, il mio compito fondamentale è quello di istituire nuove province con la FIAC, espandere il proprio marchio e nella conoscenza a tutte le province che ci sono qui in Sicilia. Speriamo di riuscirci e già oggi in sede avremo una delegazione di Messina. L'obiettivo principale è quello di poter unire imprese locali per ottenere servizi migliori verso il condominio e verso tutti quei obblighi che ogni condomino può avere verso queste istituzioni. Noi cercheremo di essere da collante tra loro e valutare poi, di volta in volta, le possibilità che ci sono per poter sempre migliorare ed avere servizi efficienti.